Torniamo con la nostra ospite, con la Maria Grazia Todaro, con l'architetto Maria Grazia Todaro, il richiamo della foresta, un'esposizione internazionale di arti visive che va a colpire Villa Pisani dal 10 al 17 di dicembre. Un orario dalle 10 alle 16, un orario un po' particolare, un orario pausa pranzo, con chiuso lunedì, ingresso libero. Il perché di questa mostra ce l'ha già spiegato l'architetto Maria Grazia Todaro. Entriamo nella mostra di pittura, scultura, fotografia, installazioni, molti sono gli artisti presenti e naturalmente ogni giorno c'è una qualcosa, la performance di ballo, la presentazione di libri e quant'altro. Architetto. Allora, l'orario purtroppo è obbligatorio perché Villa Pisani chiude alle 16 per cui noi faremo un orario continuato senza la pausa pranzo. Un calendario ricco di appuntamenti dal giorno dell'inaugurazione che sarà il 10 di dicembre alle ore 17 dove oltre all'inaugurazione ci sarà anche la premiazione degli artisti che poi mostreranno le opere fino al 17. Sono quasi 70 artisti, 50 pittori, una decina di fotografi e altri scultori, grafici e designer. Oltre al 10, il giorno dell'inaugurazione avremo una rappresentazione di danza, la danza delle foglie di Niccolò e Marta di Padova Danza, poi avremo un aperitivo per accogliere la gente che ci viene a trovare. Siete tutti invitati, l'ingresso è naturalmente gratuito. Per entrare nella villa si paga il biglietto, per entrare da noi chiaramente siamo prima della biglietteria per cui nella saletta proprio di fronte alla biglietteria ci venite a trovare. Nei giorni successivi avremo altre performance, parleremo di Land Art che è l'arte che si crea a contatto con la natura con l'artista Marco Nones che è un bravissimo artista e crea le sue sculture immerse nel verde, nella natura e soprattutto realizza queste sue opere in Val di Fiemme. Avremo una performance dell'artista argentina verde rame con i suoi veli, un velo lunghissimo che lei con i suoi angeli porta in giro e quindi farà questa consacrazione con la natura. Avremo anche una lettura di poesia di alcune artiste durante il momento dell'inaugurazione e l'11 domenica mattina la presentazione del libro di Carla con le sei billi Gli Elfi del Bosco, quindi tutto quello che ha a che fare con la natura lo avremo, un calendario ricco veramente di appuntamenti, veniteci a trovare. L'anno delle foreste, l'anno delle foreste, questa manifestazione va un po' a chiudere una miriade di iniziative che sono state fatte in tutta Italia. Mi piace perché oggi...